Un comitato di crisi europea è la proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per gestire sbarchi e migranti. Martedì ho scritto la seconda lettera Juncker e Tusk per chiedere che quel che è avvenuto domenica, cioè la suddivisione dei migranti, diventi una prassi affidata non più alle nostre telefonate ai partner, ma un gabinetto o un comitato di crisi sotto legita della Commissione UE, che poi si faccia mediatrice con i vari governi. Per Conte, in futuro, se altri paesi extraeuropei accetteranno di creare non hotspot, ma centri di protezione per esaminare le richieste di asilo, i veri profughi che avranno diritto di venire in Europa, dice, potremo portarli noi con corridoi umanitari, stroncando il traffico degli scafisti. Intervistato dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, il Premier spiega di essere a lavoro con tutti i soggetti in campo per stabilizzare la Libia. Vedrò anche Aftar, dice, annunciando per l'autunno una conferenza sulla Libia. A Macron aggiunge, l'ho detto fin dal G7, l'obiettivo non sono le elezioni Libia entro dicembre, ma la stabilizzazione del paese. Senza le elezioni possono diventare un boomerang. Nessuna minaccia potrà fermare difesa dei confini e rimpatri dei clandestini. La musica è cambiata, commenta su Twitter il ministro dell'interno Matteo Salvini. Alcune scritte di minaccia comparse su un muro a Macommer, in provincia di Nuoro. Noi vogliamo salvare vite e proteggere la sicurezza degli italiani. Salvare vite lo si fa riducendo le partenze e gli sbarchi. La sicurezza degli italiani la si ottiene limitando gli arrivi in Italia. Quindi sono quasi 80.000 gli immigrati in meno sbarcati in quest'anno, anche grazie alla serietà a rigore di questo governo. Quindi sono contento di quello che ha scritto Conte, sono contento dei risultati ottenuti. Adesso lavoreremo per spendere sempre meno soldi e immetterci sempre meno tempo per distinguere i profughi veri dai furbacchioni che torneranno a casa. Fino ad oggi l'Italia si sobbarcava a quasi tutti i costi economici e sociali di tutte le persone che venivano giustamente salvate. Se l'Europa esiste sono costi economici e sociali che vanno divisi per 27 perché il mare di tutti non è solo italiano. Salvataggio di vite in mare sì, comunque e sempre, afferma invece il presidente della Camera Roberto Fico durante la cerimonia del ventaglio. Il salvataggio delle vite in mare è un atto fondamentale, importante, chiaramente a cui l'Italia non si è mai tirata indietro e mai lo farà. Ed ha avuto un ruolo su questo umanitario centrale. Sono molto contento anche delle parole del ministro delle infrastrutture Toninelli che dice che in mare non esiste, e in generale questo non esiste mai, ma in mare soprattutto non esiste razza, non esiste sesso, non esiste religione, non esiste colore della pelle e le vite rimane saranno sempre e comunque salvate. E sono parole che danno lustro al nostro paese perché sono parole importantissime. Il Mediterraneo in questi anni è stato un luogo di dolore molto grande e molto forte, di ricerca della speranza. Non c'è dubbio che l'Italia è stata lasciata sola. Non c'è dubbio che approdare in Italia non è significato approdare in Europa e da molto tempo che anche nella scorsa legislatura si chiedono le quote, si chiede la responsabilità di tutti i paesi di intervenire, si chiede una politica europea che sia chiara e trasparente nei confronti e con l'Italia e di aiuto per risolvere anche e aiutare la situazione in Libia e con tutti gli attori circostanti. Quindi salvataggio e le vite in mare, senza dubbio sì, sempre e comunque e messa in sicurezza quindi di quelle persone e allo stesso tempo essere duri con l'Europa dicendo che l'Italia è un paese dell'Europa e non va lasciata solo, se no l'Europa così non ha senso. Non si può essere solidari a corrente alterna o si è solidari sempre o non si è solidari mai. Ognuno in paese si deve prendere le proprie responsabilità fuori dagli egoismi nazionali.